Archiviata la sconfitta casalinga con Brescia, il volle soverato si rituffa in campionato perché c'è il turno infrasettimanale e si va a far visita alla prima della classe, la nuova prima della classe, l'EPM Bammondovi, coach Barbieri, una squadra attraverso un ottimo periodo di forma, una squadra che è andata increscendo dall'inizio del campionato, quindi probabilmente l'avversario più temibile in questo momento. Sì, sicuramente, stanno facendo molto bene, è una squadra molto molto quadrata che ha un'ottima fase di cambio palla, le due straniere stanno facendo la differenza, perciò è una squadra molto molto ostica, però partiamo dalla partita dell'andata dove abbiamo vinto, anche se loro avevano un paio di difezioni, però anche noi abbiamo i nostri momenti un po' così, perciò sappiamo di trovare una squadra forte ma non partiamo certo in battuti. C'è un verato che sta attraversando un periodo negativo dal punto di vista dei risultati, ma paradossalmente forse questa partita arriva in un momento dove sicuramente affrontando la prima della classe gli stimoli vengono da soli, quindi un soverato che può fornire una prova di carattere anche se su un campo difficile. Sì, noi gli stimoli ce li abbiamo, è innegabile che quando si perdono due o tre partite, magari anche ai vantaggi avendo la palla, entra in gioco anche un po' una componente psicologica, abbiamo bisogno di ritrovare un paio di set, abbiamo bisogno di ritrovare punti e siamo convinti di poter partire da lì perché comunque le qualità le abbiamo. Presentiamo nel dettaglio questa formazione della Mondovì che abbina delle giovani a degli elementi esperti di categoria con un allenatore di categoria esperto che sta facendo molto bene. Sì, sì, loro hanno sicuramente, come abbiamo detto, le due straniere che sono il terminale d'attacco molto molto importante, hanno due centrali molto molto solidi che possono, tengono bene a muro, sempre molto ordinati e comunque un libro all'Agostino che è di grande esperienza, ho avuto la fortuna anche di allenarla, è un libro che sicuramente ha grande esperienza perché nei momenti decisivi si fa molto valere.